Siamo all'esperazione del village, Alberto Cilardino è pronto a tagliare il nastro di questo bellissimo village che naturalmente dove c'è la possibilità di parlare tra i tifosi per giocare con tanti sport che sono messi qui in questo village naturalmente magari anche per ballare e sentire della buona musica, sono rappresentati anche tanti dirigenti della FIT di Moena e qui c'è Giravino Ciao a tutti, siamo felici, siamo felici, c'è un grande entusiasmo, un grande voglia di iniziare in un posto stupendo e ringraziamo tutte le autorità di Moena che ci permettono di lavorare in un posto del genere Grazie Ministro, un saluto anche dall'assessore Angelo per poi dare il taglio del nastro Niente, intanto un saluto a tutti, porto un saluto anche da Sina perché purtroppo oggi come arriva altri impegni Niente, e voi benvenuto, speriamo che questa nuova vettura sia prevista per noi, ma soprattutto per voi che porti dei grandi risultati come per i crei anni precedenti Ancora grazie e speriamo poi da voi tanto di vederci giornalmente Assolutamente sì, allora tutto è pronto, il nastro è pronto, le forbici a vista di Girardino in questo momento con il taglio del nastro si dà in via al ritiro di Moena del Genoa